Buonasera da Misano, Adriatico, autodromo Marco Simoncelli per la quindicesima edizione della Porsche Carrera Cup Italia, un'edizione record e 31 iscritti. Buonasera, buonasera, buona sera, 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 buona sera. Fate il primo da star sui segurento, purtroppo. Starca! Questo momento è stato da ruge, è fuori, non è fuori. Buongiorno, seconda gara della Porsche Carrera Cup Italia 2021 Ieri, vincere, è un concetto, bravissimo, Marzio Moretti che all'esterno va Sono gli uomini della corsa, Marzio Moretti, giro più veloce, 1.36 Va ad infilare il volante Vero, peccato per Marzio perché mi meritava questo podio Si vuole la corsa che dà, quella gara di me è un concetto E' un concetto per la qualità